fra gli ospiti di oggi è un altro giorno di serena bortone di questo pomeriggio primo dicembre c'è stato spazio anche per benedetta parodi e fabio caressa i due coniugi si sono raccontati a cuore aperto alla conduttrice rivelando tanti piccoli dettagli e curiosità sulla loro relazione un rapporto molto solido che prosegue senza mai essersi realmente indebolito da ben 23 anni tra un racconto e l'altro come la regola del pigiama cioè il divieto di rimanere in casa in abiti troppo informali i due hanno anche avuto la possibilità di commentare quello che a tutti gli effetti il caso dell'anno ovvero la separazione fra francesco totti e ilari serena bortone si è di norma sempre tenuta distante dall'argomento sono affari loro ha commentato la conduttrice eppure avere due personaggi come caressa e parodi in studio in effetti era un'occasione più unica che rara per parlare del tema si tratta dopo tutto di una coppia nota insieme da oltre 20 anni in cui da un lato c'è un maschio alfa esperto di calcio e dall'altro una donna dalla personalità televisiva forse che però di quello sport praticamente non ci capisce nulla tra l'altro l'11 luglio scorso mentre parodi e caressa festeggiavano il 23esimo anniversario di matrimonio totti e ilari annunciavano a mezzo stampa la loro separazione parlando dell'argomento quindi fabio caressa si è limitato a spiegare che dal suo punto di vista in questo periodo storico le coppie tendono a durare troppo poco qui le prime dichiarazioni del telecronista sportivo a riguardo forse per un calciatore come totti il vuoto che c'è stato dopo quel giorno lì secondo me ti mette di fronte a tante domande una volta introdotto l'argomento nella conversazione è stato il turno per benedetta parodi di esprimere la sua opinione a riguardo è sempre un dispiacere vedere una coppia che si è voluta bene per tanto tempo e poi è anche un simbolo che si separa un po di tristezza c'è poi io dico sempre che quando una coppia non funziona più piuttosto che tirarla avanti è meglio separarsi anche per il bene dei figli certo farlo in maniera indolore è